Fondazione Alario Ascia Marina, mi trovo qui in occasione della settima edizione del workshop sull'epilessia. Siamo alla settima edizione di questo workshop che ha visto passare tutti i più grandi esperti sull'epilessia, sia a livello nazionale che internazionale, che ha avuto proprio lo scopo di puntualizzare quelle che sono le più recenti novità in questo campo, sia nel trattamento medico, ma anche per alcuni aspetti del trattamento chirurgico, di questa forma spesso invalidante e che non sempre è ben controllata anche con l'uso di più farmaci. Si è puntualizzato qui che sono degli aspetti particolari di alcune forme in epilessia, legate per esempio alla scresa di alcune aree del cervello come nel lobo temporale, che sono suscettibili anche del trattamento chirurgico che spesso può risolvere alcune di queste forme. Quali sono le novità importanti per quel che concerne la ricerca sull'epilessia? Novità ce ne sono tante, sono delle novità naturalmente che riguardano le tecniche diagnostiche e con i continui sviluppi della risonanza magnetica e comunque delle tecniche di neuroimmagini, sviluppi enormi, posso dire quotidiani nell'ambito della genetica, che ci aiuta nella comprensione delle cause di molte di queste forme e nei meccanismi poi anche di queste forme, e degli sviluppi sul piano terapeutico con l'introduzione di nuovi farmaci che vanno ad agire su meccanismi nuovi e quindi si spera con dei risultati che possano integrare quelli ottenibili con i vecchi farmaci antiepilettici. È un campo in continuo movimento, questi workshop di ASCEA hanno appunto questo, siamo alla settima edizione, oramai hanno appunto lo scopo di disseminare le conoscenze, le ultime conoscenze sull'argomento, quindi non soltanto in grossi congressi internazionali, ma anche in un ambito più limitato dal punto di vista topografico, anche se siamo riusciti a portare degli studiosi di primo ordine da tutta l'Italia e anche da Londra, quindi i partecipanti hanno potuto soffrire veramente delle cose più aggiornate e più importanti. ASCEA si sceglie innanzitutto perché è un posto mitico, mitico e diciamo ed è stata la patria veramente di molta parte della nostra cultura. La Magna Grecia si è in molta parte sviluppata in queste zone, ad ASCEA e in altri luoghi qui vicino. Poi ho avuto la fortuna di avere dei carissimi amici che lavorano su questo territorio, con cui si è stabilito subito un buonissimo feeling e che ci hanno messo a disposizione una struttura che poi è risultata splendida e perfettamente adeguata ai nostri scopi, sia dal punto di vista delle strutture, delle aule e naturalmente anche dal punto di vista alberghiero abbiamo avuto delle soluzioni ottimali. Cioè praticamente noi abbiamo trascorso tre giorni in un clima di estrema amicizia, si è dialogato, ci sono confrontate delle cose anche opposte, ma insomma in un clima di assoluta, come dire, cameratismo, con estremo affetto ci siamo confrontati e con competenza, confrontati su argomenti di grande importanza per noi e pensiamo per i pazienti.